8 aprile 2019 bentornati su Ciper TV inizia un'altra settimana subito costruendo un set pesante di clean pool più hand power clean più jerk drive più push press più push jerk poi un benchmark overo grace for time 30 clean and jerks scalature e pesi come sempre sulla grafica qui di fianco noi ci vediamo domani per un altro WOD insieme su Ciper TV